Il governo si prepara a bloccare anche quest'anno la pesca per rispettare i piani di gestione europei, ma non ha i soldi per coprire il mancato guadagno agli armatori e al personale. Il fermo non convince gli operatori di un settore già in forte crisi che aspetta ancora i pagamenti del 2013. Secondo Domenico Guidotti, presidente di Federco Pesca Molise, non si può parlare di un nuovo stop alle attività se dallo Stato centrale non vengono ancora pagati gli indennizi e gli armatori e la Cassa Integrazione in deroga ai marittimi, una posizione già ribadita a Roma dai rappresentanti di categoria che hanno chiesto di incassare gli arretrati e garanzie per la copertura finanziaria del fermo 2014, un blocco che soprattutto nella zona dell'Adriatico che va da Trieste a Bari penalizza le marinerie in quanto viene spesso imposto in piena estate, periodo di maggiore richiesta del pescato. Se il fermo è obbligatorio, osservato Guidotti, dovrebbe essere flessibile con gli stessi operatori che decidono quando farlo, evitando così ulteriori disagi al settore. Sulla vicenda è intervenuta anche la parlamentare del PD, Laura Venitelli, che ha presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro, nella quale ha chiesto al governo di fare chiarezza sui fondi disponibili e di attivare il tavolo di monitoraggio come passaggio fondamentale per il fermo pesca e per il pagamento delle indennità agli imbarcati. Grazie. Grazie. Grazie.